Oltre 70 carabinieri del Comando Provincial di Ragusa stanno eseguendo in questione gli arresti su richiesta alla procura nei confronti di nuovi indagati. Inoltre, sempre i militari d'allarma stanno eseguendo decine di perquisizioni nei confronti di presunta appartenente ad un'organizzazione dedita, in particolare al traffico e allo spazio, di sostanze stupefacenti. I provvedimenti restrittivi sono il risultato di una lunga e complessa indagine condotta dagli stessi carabinieri e che ha consentito di accertare che gli indagati, quasi tutti di origine nordafricana, avevano costituito due gruppi criminali operanti a Vittoria, Acate, Ispiche e Pozzallo ed editi in particolare allo spaccio di Eroina che acquistavano fuori provincia. Al momento il numero degli arrestati è fermi a 9 ma è destinato ad aumentare visto che l'operazione non si è fermata alle prime ore di oggi ma prosegue con le indagini che, a dire degli inquirenti, sono fuoriere di ulteriori sviluppi. Si pensa in Casa Passalacqua al prossimo futuro e quindi Jessica Caster vestirà la maglia bianco-verde anche nella prossima stagione. È arrivato infatti l'accordo tra la giocatrice statunitense e la Passalacqua che legherà la forte ala nativa di Sant'Antonio nel Texas per un altro anno. Un rinnovo che riempie d'orgoglio e che rende felice sia la società che la stessa atleta che quest'anno sta dimostrando il proprio valore tanto in campionato quanto in Europa, risultando una delle stranere più prolifiche in entrambe le competizioni. In campionato in particolare la cast sta girando con una media di 13,6 punti a partita, tirando con l'ottima percentuale del 42% da 3 e l'81 dalla lunetta, raccogliendo anche 6,3 rimbalzi a partita. Un ottimo bottino quest'ultimo per un'esterna. Ma è chiaro che, oltre ai numeri, la teta statunitense abbia data e stia continuando a dare ampia prova di grande professionalità partita dopo partita. Da parte sua il direttore sportivo Gianni Criscione ha spiegato come nel rinnovo, contrattuale di cast, di aggiusto merito, a quella che una grande professionista come lei ha portata alla squadra e al nostro club. Giocatici importanti dicono dalla società tutti le versate che si è distinta per la capacità di dare anche un grande contributo in tutte le zone del campo e in entrambe le fasi. Domani intanto alle 20.30 alla Palaminardi la squadra è attesa dall'importante recupero di campionato con San Martino di Lupari, intanto le squadre sono a pari punti in classifica. Grazie a tutti.